Allora, c'è arrivata una lettera per noi dell'Associazione Camminare per la Vita, con scritto carissimi, vi ringrazio per l'encomiabile lavoro che condivinatamente svolgete in questo difficile momento e desideriamo donarvi un piccolo momento di relax, apporgendovi i nostri più sentiti auguri di buona Pasqua. È firmata da Deborah Compagnoni, che ringraziamo tantissimo, che ti salutiamo, che facciamo un brindisi a tutti quanti e quindi ti ringrazio tutta la squadra, la Biana, la Cristola. Buona Pasqua. Grazie, grazie, buona Pasqua. Buona Pasqua.